Una domenica tristissima per l'Irpinia, macchiata di sangue sulle strade, due tragedie a distanza di poche ore l'una dall'altra. La prima in Emilia-Romagna, a Liberniano, frazione di Pianoro in provincia di Bologna, nella quale ha perso la vita l'arianese Marco Graziano, 36 anni. Ingegnere meccanico, famiglia molto conosciuta e stimata sul Tricolle, si è scontrato con un altro centauro, anche lui deceduto, che viaggiava nella direzione opposta. Per entrambi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. È toccato alle forze dell'ordine arianese il triste compito di avvisare i familiari. Una notizia inaspettata, sconvolgente, che ha scosso profondamente l'intera comunità di Ariano. Marco lascia i genitori, il papà è stato direttore sanitario dell'Asl Avellino 1, tre fratelli e due sorelle. Ieri un crudele destino sui tornanti del passo Futa lo ha strappato dall'affetto dei suoi cari. A Grotta Minarda torna a mietere vittime la curva già maledetta della Fontana del Re, lungo la statale 90 delle Puglie. Perde la vita Paolo Barletta, 24 anni studente universitario di Bonito. Viaggiava anche lui in sella alla sua moto. Per causa in corso di accertamento si è schiantato contro un autocarro. Era uscito insieme al cugino a bordo di un'altra moto per un tranquillo giro domenicale, approfittando della bella giornata di sole. Un pomeriggio finito purtroppo in tragedia. Dolore nel piccolo comune Irpino. La triste notizia ha fatto in pochi minuti il giro del paese. Il cordoglio dei due sindaci di Ariano e Bonito, Gambacorta e De Pasquale. Siamo vicini alle due famiglie in questo momento di grande dolore.